Spesso mi è stato detto che non capisco le persone, sono costretto a ferire il prossimo per trasformarli in dei prodotti, per vendere e per guadagnare di più. Il mio problema non è che non capisco le persone, è che a me le persone, le persone non mi piacciono. Grazie a tutti.